Quando pensiamo al cibo la prima cosa che viene in mente è il gusto, poi la salute. Non a caso, c'è un motivo. La ricerca continua della gratificazione in realtà va oltre i sapori e la scienza ce lo spiega. Infatti i micronutrienti degli alimenti hanno effetti diretti sul cervello e quindi sull'umore, dagli omega 3 al triptofano passando per gli stimolatori della serotonina. Secondo uno studio della International Journal of Gastronomy and Food esistono veri e propri alimenti della felicità e oggi vediamo quali sono. Saranno quelli che fanno ingrassare? No, la sfida è aumentare il buon umore e la salute, non il peso. Ma come sempre ovviamente dipende dalla quantità. Se vi piace l'idea di mangiare sano ed essere felici mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Patata dolce. È un carboidrato complesso con il giusto mix di felicità e salute e il sapore dolce la rende ancora più gratificante. 2. Salmone. Come molti pesci è ricco di omega 3, i grassi buoni. Agisce sul cervello aiutando le connessioni neuronali, il cuore e la circolazione. 3. Cavolo nero. Nella cucina tradizionale si trova in certe zuppe ma è buonissimo anche da solo. Stimola la serotonina quindi anche se non si direbbe è uno dei cibi dell'allegria. 4. Banana ricca di antiossidanti, vitamine, fibre, potassio e prebiotici sostiene con dolcezza il benessere e rende la testa meno pesante. 5. Tofu. A base di soia è un'ottima fonte di triptofano che produce serotonina. Oltre a fornire proteine contiene grassi sani e minerali stimolanti. 6. Cioccolato. Antiossidante e ricco di triptofano è il vero cibo del buon umore. L'importante è che sia fondente minimo 70% di cacao e con zucchero di canna. 7. Noci. Non è un caso che la noce ha la forma del cervello. Contiene neuroprotettori come vitamina E, folati, melatonina e tanti omega 3. 8. Kefir. È una bevanda fermentata a base di enzimi vitali che danno energia. Ricco di batteri probiotici aiuta la digestione e ripopola la flora intestinale. Visto quanti modi per mangiare bene ed essere anche più felici? Ogni giorno introduciamo almeno uno di questi alimenti sulle nostre tavole. Io lo dico sempre, mangia consapevole e vivi meglio! Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri e the book, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao!